Una delegazione sindacale ha consegnato nelle scorse ore a Palazzo Ferrofini una raccolta di 17 mila firme di cittadini veneziani che vogliono una sanità diversa. La delegazione è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, dai Vice Presidenti Francesca Zottis e Nicola Finco, dai Presidenti di tutti i gruppi consigliari, dalla Presidente della Commissione che si occupa di Sanità, Sonia Brescaccin, e dall'Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. Bene, fermo immagine, riavvolgi veloce per tornare indietro di un anno e una manciata di giorni, fino al 28 giugno del 2022, quando una delegazione di amministratori di Bassano ed intorni si era recata a Palazzo Ferrofini per consegnare ai rappresentanti dei Veneti in Consiglio regionale migliaia di firme che chiedevano una sanità diversa. Ebbene, ecco chi c'era un anno fa, Nicola Finco, Giacomo Possamai, Giuseppe Pan ed Erika Baldin. E tutti gli altri chiederete voi ma, chissà, sicuramente impegnati, certamente in faccende più importanti. Fatto sta che la delegazione bassanese non ha potuto incontrare il Presidente Ciambetti e neppure l'Assessore Lanzarin e neanche la Presidente della Commissione Sanità, Sonia Brescaccin, sempre questo, o il capogruppo della Lega in Consiglio, Villanova. Poco importa, le firme sono state portate a Venezia e tanto bastava all'epoca per dare voce a un territorio che si era espresso in modo chiaro e deciso sull'organizzazione della sanità in seno all'Ulse 7 Pedemontana. Con il seno di poi, però, viene da chiedersi il perché di questa disparità di trattamento e di atteggiamento da parte della politica regionale. Qualcuno potrebbe suggerire che esistano cittadini di serie A e di serie B, dove B sta per Bassano. E qualcun altro potrebbe anche ribadire che la raccolta di firme portata avanti in Rivalbrenta era stata svincolata dalla politica e anzi interessava migliaia di cittadini con le loro storie, le loro lamentele, le loro segnalazioni. Un vero peccato, visto che di quelle firme non si è saputo più nulla. Resta da capire se quelle consegnate nelle scorse ore finiranno, assieme alle voci dei bassanesi e dei cittadini della Pedemontana, a prendere polvere in un cassetto. Oppure si avranno a disposizione una corsia preferenziale per saltare dall'altra parte del Canal Grande fino a Palazzo Balbi.